Prosegue la collaborazione tra l'Aquila Film Festival e l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo che per il terzo anno organizzano il Doc Film Festival, il festival del reportage giornalistico e del cinema documentario. L'obiettivo della terza edizione è esplorare le zone di intersezione tra il lavoro giornalistico e quello documentaristico. I quattro giorni si divideranno quasi simetricamente. Lunedì 19 e martedì 20 marzo prevarranno i temi giornalistici e di attualità con gli interventi del fotoreporter Danilo Balducci che racconterà la sua esperienza sulla rotta balcanica mostrando i suoi scatti e della fotografa Laura Agio con i suoi lavori e la sua testimonianza dal Medio Oriente. Il tema caldo dell'accoglienza dei migranti invece sarà affrontato in una conferenza alla quale parteciperanno le realtà locali aquilani e quella romana di Baobau Experience per un confronto sulle problematiche comune alle quali interverrà anche l'assessore comunale Bignotti. Seguirà la proiezione del documentario Human Flow dell'artista dissidente cilese Ai Weiwei già presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. L'attenzione del festival si sposterà sul centro Sud America grazie agli interventi poi del giornalista Valerio Nicolosi e della regista Eleonora Nascimbenga Sparotto che racconteranno e mostreranno le loro esperienze nelle piccole comunità indigene.